si va da paolini e poi ancora d'ortiz rischia il dribbling che in qualche modo riesce poi cedrone mette giù benissimo ancora cedrone con la punta buonissima parata qui di tofini per i suoi di consiglio guadalemma ancora il numero due prova col piattone lotta con lo sito che ruba benissimo la palla lo sito calcia trova solo il palo sempre cerbarano ciabatelli che questa volta si è spostato a destra primo dribbling secondo eppure riesce poi tacco di cerbarano tacco anche di abbatelli che bella azione della lositana vicinissima al vantaggio imparato in avanti cerbarano viene chiuso da ortizia lui si vada di consiglio contro lo sito di consiglio poi di tacco per paolini esce benissimo imparato a rimettere in gioco lemma fronteggia cedrone non trova una linea di passaggio pulita ancora lemma c'è paolini che si fa vedere controlla poi di punta sempre imparato e poi di consiglio clamorosamente sbaglia l'1 a 0 le mente cerbarano di fisico vince due scontri e chiude benissimo la linea di passaggio imparato sempre in avanti a cercare barba che col piattone al volo non trova l'1 a 0 va a vedere se la fa dare e poi tenta di chiudere il triangolo col suo compagno non ci riesce cerbarano bravissimo qui poi fino in fondo barba che recupera la palla e di piatto porta in vantaggio i suoi cercare abbatelli in avanti per cedrone si fa vedere abbatelli controlla dribbling abbatelli non calcia sceglie cedrone bravissimo capanna a toccarla e a metterla in angolo di consiglio in mezzo non trova nessuno solo cedrone che può trasformare l'azione difensiva in offensiva per abbatelli dribbling tentato abbatelli in mezzo per cerbarano che va da cedrone si mette sulla traiettoria di consiglio sceglie paolini andare sull'auto di sinistra palla che gli ritorna mette giù benissimo paolini ortiz gizzi adesso difende la lositana ortiz col destro controlla la para qui impara ancora lo sito trova cedrone di piatto 2 a 0 il numero 27 raddoppia per la lositana pronto ad andare ortiz a cercare paolini lo trova allora può ripartire la l'ositana cedrone c'è tagliaboschi che si fa vedere scelto a battelli che trova tagliaboschi 3 a 0 per la lositana ancora il numero 5 e va dal suo numero 7 ortiz a lositana che sta ripartendo benissimo qui poi prova ad andare verso la porta gizzi lo sito evita il 3 a 1 cercare paolini calcio ancora gizzi sarà sempre corner per la squadra ospite fa vedere lemma che mette giù ancora il numero 2 calcio verso la porta imparato fa una parata clamorosa fa la battuta per cedrone che mette giù verso la porta capanna compie un attentico miracolo antonetti pronto ad andare il numero 11 passaggio a cercare lemma conclude di sinistro ma palla che si spegne sul fondo 27 e mezzo a cercare il fratello con la maglia numero 12 batte sempre cedrone abbatelli si è sposta sul sinistro abbatelli conclude verso la porta ma non trova il quattro di mente davanti per armizzani tentano due che non riesce allora può ripartire cedrone che serve il numero 12 ancora cedrone trova il 4 a 0 il numero 12 fischia l'arbitro la lositana vince e passa il girone battuto i ulivi village calcio per 4 a 0